Demoni distrutti Gesù e i suoi discepoli attraversarono il mar di Galilea. Incontrarono un uomo che aveva alcuni spiriti maligni e che viveva in un cimitero. Gridava sempre e si faceva dei tagli con delle pietre. Gesù disse agli spiriti di andarsene. Non ci fare del male, Gesù! Gridarono gli spiriti. Il mio nome è Legione, disse l'uomo. C'è una legione di spiriti dentro me. Gli spiriti maligni si spaventarono. Lì vicino c'era un grande branco di porci. Allora, mandaci nei porci. Gesù permise che gli spiriti maligni entrassero nei porci. L'intero branco si mise a correre fino a un precipizio. E tutti i porci caddero nel lago e affogarono. Le persone che pascolavano i porci dissero a tutti nella città che cosa era accaduto. La gente della città venne al cimitero. Videro che Gesù aveva guarito l'uomo. Impaurite, le persone chiesero a Gesù di andarsene. L'uomo chiese di seguire Gesù. Ma Gesù gli rispose Stai qui. Racconta a tutti quello che ho fatto. L'uomo fece così e tutti furono stupiti. Grazie. 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 Grazie.